Il capogruppo in consiglio provinciale della Lega, Andrea Amata, denuncia lo scippo dei fondi per il trasporto pubblico locale e lamenta il fatto di essere trattati ancora una volta come cittadini di serie B. Purtroppo non è la prima volta, sostiene, che le province del Lazio sono oggetto di una vera e propria rapina. Vediamo il perché. Un emendamento firmato da tutti i consiglieri di Forza Italia, sia di Roma che delle province, prevede che la città di Roma possa prendere direttamente dal Ministero le somme destinate al trasporto pubblico locale. In parole povere, vuol dire che alcuni milioni di euro che fino ad ora erano transitati nelle casse della regione, che poi provvedeva a ripartire tra Roma e le province, ora andranno direttamente alla capitale, con la conseguenza che i cittadini delle province restano a piedi. Se quanto rappresentato diventa realtà, diciamata, a pagarne le spese saranno in particolare i piccoli comuni, in cui la distanza tra le varie zone è colmata dalla presenza delle circolari. Ritengo questo un vero e proprio affronto da censurare a tutti i costi. Anche perché, oltre al servizio, rischia di mettere anche in crisi il comparto delle aziende locali, che svolgono il servizio nei comuni, i quali senza questi contributi, tenendo conto della scarsità di risorse, non potrebbero più assicurare la presenza della rete di trasporto locale. Insomma, un vero e proprio caos, anche in termini occupazionali. Da qui la proposta. Richiedo, pertanto, diciamata, che si torni indietro rispetto a quanto deciso e soprattutto la sismetta con questo modo di fare che non tiene conto in nessun settore delle esigenze dei cittadini che abitano nelle province. Ogni volta che c'è da tagliare, si taglia sempre oltre le mura di Roma. Questo non è più tollerabile.